ben trovati oroscopo di mercoledì 26 maggio si festeggia san filippo neri il sole sorge alle 4 e 41 tramonta le 19 e 33 il proverbio dice quando piove per san filippo il povero non ha bisogno del ricco e adesso l'oroscopo ariete vi verrà offerta su un piatto d'argento una clamorosa rivincita ci sarà chi dovrà parlarvi dei suoi torti nei vostri confronti ma lo farà con una tale sincerità che vi provocherà un senso di stupore misto a tenerezza è probabile che a parte la soddisfazione nasca un'amicizia un toro potrebbe verificarsi una piccola grana nel vostro lavoro trascuratezza o dimenticanza poco importa riuscirete comunque a rimediare tranquillamente la gelosia vi porterà a crearvi immagini distorte della realtà non continuate a rimuginare sopra il significato di certe parole in amore occorre prudenza gemelli qualcuno vi racconterà un piccolo inganno che una persona che ritenevate amica sincera vi ha fatto tempo fa vi conviene prima di agire decidere se vale la pena riprendere in mano l'argomento per chiarirlo in un faccia a faccia oppure visto il tempo passato se non vi convenga dimenticare cancro non fatevi scombussolare dalle attenzioni di quella persona anche se l'avete sempre considerata molto affascinante è meglio che non lasciate trapelare così visibilmente la vostra emozione anche se vi sarà difficile mantenere il controllo più tardi però ne sarete molto contenti leone non indugiate su quella decisione continuare a soppesare i pro e i contro vi porterà solo a sentirvi ancora più perplessi e confusi decidete e basta senza ulteriori dubbi e senza temere di commettere errori di valutazione cercate di non volere l'impossibile in amore vergine riuscirete a vedere chiaro per ciò che riguarda la vostra necessità e i vostri bisogni di questi momenti e ciò vi permetterà di decidere sul comportamento da tenere e di farvi valutare meglio certi atteggiamenti di alcune persone intorno a voi mantenete la calma e la fiducia in voi stessi bilancia qualcuno potrebbe rendervi titubanti su una scelta che state per fare non lasciatevi bloccare più di tanto perché forse c'è del pessimismo in ciò che vi è stato detto fatta ogni vostra personale valutazione decidete e basta e il vostro rapporto d'amore stasera vi darà maggiori sicurezze scorpione la vostra necessità di vedere chiaro in quella situazione appartiene solo a voi in effetti vi accorgerete che a nessuno interessa inoltrarsi in quel problema forse perché è già risaputo che la verità non verrà mai a galla sagittario oggi vi si potrebbe presentare l'occasione di allargare la vostra cerchia di amicizie per lavoro o per ricerche nello studio entrerete in contatto con persone molto attive almeno quanto voi e ricche di proposte stimolanti inizierete da subito a familiarizzare positivamente capricorno gli altri punteranno sulla vostra disponibilità per ottenere da voi ciò che desiderano e compreso il trucco darete il meglio di voi stessi avete accanto persone sincere che non approfittano in senso negativo della vostra generosità acquario il vostro desiderio di cambiamento potrebbe stressarvi non poco cercate allora di modificare le vostre aspettative ridimensionandole ci sarà il momento opportuno per realizzare ciò che desiderate adesso cercate di mettervi tranquilli in attesa fiduciosa di eventi più propizi pesci non vi mancheranno gratificazioni nel lavoro e già siete lì che gioite per contro vostro non avreste bisogno di chi vi appaga emotivamente eppure anche queste situazioni vi portano a sentirvi sempre più sicuri di voi e in perfetto equilibrio con il vostro mondo un vostro sogno d'amore segreto potrebbe realizzarsi questa sera potrebbe realizzare ciò che stessa